Ciao ragazzi, benvenuti in questo episodio di Gare Impossibili numero 6 Ebbene sì ragazzi, è ritornato questo episodio Ho visto che questa gara ha il 9% Beh cavolo vanno tutti, bisogna andare qua raga Ha il 9% di... Perfetto, armi abilitate di valutazione Ma sì, basta che ti alzi personaggio E quindi sono veramente stracurioso di vedere un po' in cosa consiste Nel frattempo noi cittiamo Via via, quelli si stanno già sparando Che figata Oh maledetti Via via via, Bistar scappa via, come una gazzella Via 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 Ma porca vacca, veloce E adesso li aspettiamo qui ragazzi Li aspettiamo qui Boom, biaccio Boom Ciao bello No, ricarica, ricarica amico E Bistar spacca tutti Avanti così Potentissimi siamo ragazzi Via via via, fuga 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 Per quello era una gara impossibile Perché qua tutti si sforacchiano come non so cosa Devo andare di sotto No, l'ho preso Come cavolo Come faccio ad andare là Via via raga Dove ne andare giù di qua Me lo sento Giù da questa parte Perfetto Vai così Bistar Ole Ma dai Scendi da sta cavolo di bici Perfetto Perfetto Vai 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 Su Vai su Corri 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 Bistar Corri 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 Perfetto Vai Salta su Prendi sto cavolo di checkpoint E qua ragazzi Facciamo un po' di mine di prossimità Così voglio vedere un po' che cavolo fanno Anche una qua Vai così Ole Che bastardo che sono ragazzi Dove devo andare? Ah eccoci qui Eccoci qui Vai così Avanti Preso il checkpoint maledetti Vai E Bistar scappa giù E Bistar scappa Via con la bici Con la sua bicycle Vai così Che cavolo No eh No è qua Ma oh Cavolo Vai Siamo scappati in mezzo Vai qui dobbiamo andare su Secondo me Ole Così passiamo Saltiamo tutto Un'altra bombetta lì Dai Dai è così ragazzi Gare impossibili Non sono impossibili alla fine Per fortuna che era GTA ragazzi Perché io avevo ben Volevo ben cambiarle E metterle normali Però ho detto no Se c'è GTA C'è un motivo Perché l'hanno lasciata GTA E quindi E quindi Di fatti Eccoci qui Qui scavalchiamo tutto Facciamo il giro largo Ampio Vai Vai così Questa più che altro È una maratona Qui si può passare Porca vacca Vai Vai avanti così Dentro agli autobus Ma esci da sto autobus Vai Vai Ma che cosa ho fatto Ma dai Ho fatto esplodere uno Una stelletta Ma dai Non è valido Spostati Ne ho tirata giù Una Sono belli però Questi passaggi ragazzi In mezzo agli autobus Non sono niente Niente male Dai di qua Olle Qui in mezzo Forse sarebbe il caso Di schiacciare triangolo Ragazzi Forse eh Voi cosa dite Quasi quasi Ma Andiamo giù da questa Via tranquilli No Dove che cavolo sono finito Direzione sbagliata Ah vai vai Qua sotto Vai qua sotto Ma che cavolo Si è distrutto sulle scale Dai dai Ma dai Uno già abbandonato Che scatole ragazzi Passiamo in mezzo Il container Noi Ah cab proprio No Dio Io Eh E Dio E E E I E I E E ина E E E E Grazie a tutti. E siamo arrivati in fondo, ragazzi. Come cavolo faccio ad arrivare lassù? Come cavolo faccio ad arrivare in quel cavolo di punto? Ok. Come cavolo si fa? Posso salire qua su? No. Ma come cavolo faccio a salire? Fermi tutti, ragazzi. Fermi tutti. Che qua Bistard, cavolo, è una cosa inverosimile. Cosa cavolo ho fatto? Fermi tutti. Che io vado a concludere così con questa gara. Se riesco a concludere così, veramente, ragazzi, arriviamo a una miriade di pollici in su. No! Fermati, eh. Devo arrivare lassù in cima. Allora, io avevo lasciato la bici qua. Quindi riprendiamoci la bici. Ci vuole per forza la bicycle, ragazzi. Fermati. Fermati. Eccoci qui, fermi. Fermi tutti qua, perfetti. Sì, ma come faccio ad andare lì? Come cavolo faccio? Questa qui veramente è una gara impossibile. No. Fermati. Fermati. Allora, da quella parte lì devo andare. Fermati. Fermo. Ce la stiamo riuscendo, ragazzi. Avanti così. Dai, pedala! Porca vacca, non cadere di sotto. Ci siamo. Perfetto. E poi l'ultimo step. Sperando che quello sotto lì non ci spari. Dai, che non ci vede. Eeeh, male... Aaaaaaah! Ed eccoci di nuovo qui, ragazzi. Dopo 43 minuti ho provato un macello di volte. No. Grazie a tutti. Ed eccoci qui ragazzi dopo 50 minuti, avrò fatto miliardi e miliardi di tentativi fino qua e poi ogni volta mi schiantavo su questo salto, quindi spero che non sia una di quelle volte, pronti, via. Pedala, 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 salta! No, no, no! Ce l'ho fatta ragazzi! Fermi tutti! Fermi tutti quanti! Forse ce la stiamo facendo dopo quasi un'ora, allora il traguardo è lì, non ce la farò mai, qua devo fare un mega salto. Allora devo saltare poi su quello di destra e andare su quello di sinistra. Vai, vai Bistarda! Vai Bistarda! Ce l'ho fatta! Quindi ragazzi l'episodio di oggi di Gare Impossibili numero 6 si è concluso, finalmente aggiungerei dopo 54 minuti. Io vi ricordo che a 20 minuti, a 30 minuti avevo già quasi concluso se non era per quel bastardo che c'era con me in sessione che mi ha sforacchiato alla fine. Io ho dovuto rifarla decine e decine di volte. Comunque ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate veramente tantissimi pollicioni su, arriviamo a 10.000 mi piace. Commentate, ditemi se vi è piaciuta o no. Se sapete altre gare impossibili scrivetemelo sotto nei commenti. Io vi ricordo come al solito di passare dalla pagina Facebook che trovate sotto in descrizione e iscrivervi al mio canale. Qua da Bistarda per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!